buongiorno mondo buona domenica questa è la colazione della madonna assicurata questa è la colazione della madonna assicurata un click un click senegalese un click senegalese un click nigeriano un click nigeriano biscotti rumeni gocciole rumene gocciole rumene gocciole rumene una bella stick una bella stick una bella stick e caffè ungherese mamma mia ragazzi ed ecco a voi la colazione della madonna assicurata